Dov'è che ti volevano mandare via per via dell'accento italiano? Mi ricordo che questa persona ha detto io non pago il canone per avere il TG letto da una straniera. Sono settimane che parliamo di queste cozze pelose. Mi pare che un po' di cozze pelose ci fossero. Il necessario per tenere in piedi questa storia. A me fa orrore veramente il concetto della natura. In un laghetto, in un posto idilliaco, sono stato aggredito da un cigno. Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo Le invasioni barbariche Venerdì alle 21.10 sulla 7 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!